nella vita un saldo appoggio fa sempre comodo quindi ho modificato una maniglia per poterla applicare in modo veloce e non invasivo la procedura è ovviamente applicabile in varie situazioni armadio finestre casse muro eccetera avere un comodo punto di presa può fare una grande differenza rendendo più agili azioni non proprio gradevoli creati due fori magari con delle svasature all'estremità della maniglia per due viti dimensionate al carico ed adatte al materiale su cui avvitarle nel mio caso legno la maniglia diventa applicabile ovunque anche avendo accesso ad una sola facciata deglino ogni responsabilità per eventuali danni a persone animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse inutare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro ingrattenimento aspetto i vostri commenti e mi piace le iscrizioni al canale a presto grazie per la visione ciao a presto grazie per la visione A presto! 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 A presto!